Quando la politica diventa barbarie, i barbari, nel caso che vi racconteremo, sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, non nuovi a episodi di vero e brutale sciacallaggio. È l'inesperienza probabilmente, è la rabbia repressa, però certi personaggi dovrebbero darsi una calmata. Il consenso non giustifica l'arroganza né l'approssimazione nei giudizi, anzi dovrebbe consigliare il contrario. Ieri il Movimento 5 Stelle ha brutalmente, senza alcuna giustificazione, attaccato l'assessore regionale pugliese alle politiche giovanili, Guglielmo Minervini. Un attacco sfrenato in tutta la rete è comparsa la foto di Minervini. Chi l'ha visto? Minervini è accusato di essere stato assente, pensate un po', a due consigli regionali su dieci, cioè al 20% di consigli regionali. L'hanno definito per questo assenteista cronico, immeritevole di percepire lo stipendio. E che cosa ha fatto? Ora, a parte che di assenteisti molto più cronici di Minervini, di cui probabilmente il Movimento 5 Stelle non si interessa affatto, ce ne sono nell'attuale consiglio regionale parecchi, parecchi, parecchi di più. Ma Minervini ha un valido, purtroppo, ha un valido motivo per assentarsi, gravi problemi di salute. Non meritava questa ulteriore aggressione politica, in quel modo. Non bastano, non bastano per niente affatto le scuse che poi il Movimento 5 Stelle gli ha riservato per tentare di sanare la ferita. Non bastano affatto perché la ferita purtroppo rimane, è molto grave. Ed è grave il fatto che la politica si sia imbarbarita a tal punto che non si accorge quando travalica il consentito, quando va oltre il pudore. Purtroppo questa, questa è la politica di oggi, quella che si fa con la pancia anziché col cervello. È una politica peggiore di quella di ieri, che probabilmente oltre al cervello si faceva anche con le mani, ecco, diciamo così. Non è che oggi siano cambiate molto le cose. Per fare politica basta avere le mani, ancora oggi. E però dal cervello si è passati alla pancia. Basta saper gridare, basta saper raccontare varzellette. E nella politica di oggi non bisogna mai ammalarsi, altrimenti si diventa assenteisti cronici.